Cosa? Un mondo dove uomini e Daimos possano vivere in pace. Davvero credi che sia possibile? Certo. Se ogni umano fosse come quelli dell'isola di Krag, sarebbe facilissimo. Davvero? Io invece sono dell'idea che tutti i Daimos del mondo dovrebbero imparare le buone maniere dagli Slothian. Gli umani dovrebbero sottomettersi ai Daimos. No. Sono i Daimos a dover essere sottoposti. Credo che il nostro destino sia scritto. Non vedo altra via d'uscita! Ascoltami bene, Krag. Noi Daimos viviamo per la guerra e tutto quello che ho avuto. Se noi Daimos ci arrendessimo adesso sarebbe la fine della nostra razza. Credi che per noi esseri umani le conseguenze sarebbero diverse? Pensi davvero che vi permetterò di distruggere la nostra civiltà? La vostra presunta civilizzazione ha solo indebolito la razza. Ehi voi due, ma che cosa state facendo? Maledetto umano! Luridotaimos! Vi prego, non combattete come di voi! Maledetto umani! Maledetto umani! Maledetto umani! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.